Musica Sono in programma nei giorni sabato 8 gennaio a Marciana Marina e domenica 9 gennaio a Marina di Campo due giornate vaccinali dedicate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. I vaccini saranno effettuati dal pediatra Alberto De Fusco nel suo ambulatorio a Marciana Marina la mattina di sabato 8 gennaio dalle ore 9 alle 13 e per prenotare è necessario chiamare la pubblica assistenza di Marciana Marina al numero 328 8038 753 a partire dal lunedì 3 gennaio. Domenica 9 gennaio il dottor De Fusco si sposterà nell'ambulatorio del distretto di Marina di Campo in Piazza degli Eroi dalle ore 9 alle ore 13 per vaccinare i bambini sempre di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Per prenotare è necessario chiamare il numero telefonico 0565 97 9332 possibilmente la mattina dalle 9 alle 13.